L'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati. Siamo un grande Paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con efficacia e con la generosa benegazione del suo personale a tutti i livelli professionali. Alla cabina di regia, costituita dal Governo, spetta assumere in maniera univoca le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni, anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. Vanno quindi evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento. Rispettando quei criteri di comportamento, ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza. Desidero esprimere sincera vicinanza alle persone ammalate e grande solidarietà ai familiari delle vittime. Cari concittadini e cari concittadini, senza imprudenze ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo avere fiducia nell'Italia.